La convalescenza serena di Antonella Clerici. Dopo essere tornata a casa ad Arquata scrivia dall'intervento alle Ovaia Maggio, Antonella Clerici affronta la convalescenza con serenità nel suo rifugio verde insieme al compagno Vittorio Garrone e ai suoi cani, Simba e Argo. La conduttrice ha deciso di condividere con i suoi follower su Instagram momenti di relax nel giardino di casa, sottolineando l'importanza della natura e degli animali durante questo periodo di riposo. Il sorriso di Antonella nel giardino di casa. A quasi un mese dall'operazione, Antonella ha postato su Instagram una foto che la ritrae felice nel suo giardino, evidenziando quanto sia fondamentale per lei rigenerarsi immersa nella natura. Relax, campagna, natura, animali. Non c'è posto migliore per rigenerarsi, ha scritto la Clerici sotto al post. I numerosi messaggi di affetto lasciati dai fan e dai colleghi confermano il sostegno e l'amicizia verso la conduttrice televisiva durante questo momento delicato. La guarigione di Antonella Clerici dopo l'intervento chirurgico. Nonostante le paure legate all'intervento, Antonella Clerici sembra essere sulla buona strada verso la guarigione, sentendosi circondata dall'amore della sua famiglia e dal supporto dei suoi fan. Dopo l'operazione necessaria per una cisti ovarica, le condizioni di salute della conduttrice si mostrano promettenti. Il suo ritorno a casa dopo il ricovero e le immagini condivise sui social mostrano che la convalescenza procede nel migliore dei modi. Con ancora alcune settimane di riposo previste, Antonella si prepara a riprendere pienamente le sue attività, con la speranza di concedersi presto una vacanza estiva per ricaricare le energie. Continua a seguire il percorso di recupero di Antonella Clerici. I follower di Antonella Clerici possono continuare a seguire da vicino il suo percorso di recupero attraverso i suoi aggiornamenti sui social, mentre lei si prepara mentalmente a tornare al timone del mezzogiorno di Rai 1 con rinnovata energia. La sua determinazione e il supporto della sua cerchia più stretta sembrano essere i pilastri su cui la conduttrice si sta aggrappando per superare questo momento delicato, con lo sguardo rivolto al futuro e alle sfide che verranno. Approfondimenti. Nel testo dell'articolo vengono menzionati diversi personaggi e elementi significativi. Ecco un approfondimento su ognuno di essi. 1. Antonella Clerici. È una famosa conduttrice televisiva italiana, nota per programmi di successo come, Ti lascio una canzone, e, La prova del cuoco. È molto popolare in Italia e ha un grande seguito sui social media. Nell'articolo, si parla della sua convalescenza dopo un intervento alle ovaie e del suo recupero nel suo rifugio a Arquata Scrivia. 2. Vittorio Garrone. È il compagno di Antonella Clerici, che le sta vicino durante la convalescenza. 3. Simba e Argo. Sono i cani di Antonella Clerici, che la accompagnano nel suo rifugio verde durante il periodo di riposo. 4. Arquata Scrivia. Si tratta del luogo in cui si trova il rifugio di Antonella Clerici, e dove si sta riprendendo dalla convalescenza. 5. Instagram. È una popolare piattaforma di social media, utilizzata da Antonella per condividere momenti della sua convalescenza, e per rimanere in contatto con i suoi follower. 6. Rai 1. È uno dei principali canali televisivi italiani, disponibile sul digitale terrestre. Antonella Clerici è stata spesso presente come volto noto in programmi trasmessi su questo canale.